Per la diciottesima notte rosa, una presentazione milanese in un avamposto di Romagna, il Mare, locale di cucina romagnola sui navigli, gemello di quello di Cesenatico, e il capodanno della riviera sceglie il tema dell'inclusività con lo slogan Pink Fluid, coniato da Claudio Cecchetto. A Rimini le serate della Team Summer Eats di Rai 2 passano dalle due dello scorso anno a tre, includendo il giovedì. Sempre il giovedì il Rimini Folk in Piazza Cavour, tra gli artisti che si esibiranno in riviera, a Riccione Carmen Consoli, a Misano Irene Grandi, a Cattolica Orietta Berti, a Bellaria Elettra Lamborghini. Immancabili poi alla mezzanotte del venerdì i fuochi d'artificio su tutta la riviera e, come da tradizione, una miriade di eventi promossi dalle singole località in collaborazione con i comitati turistici. Il claim è Pink Fluid perché, come dire, chi viene in Romagna può essere chi è, quindi una terra inclusiva, una terra allegra, dove anche quest'anno credo ci sarà un'estate davvero entusiasmante. Il bello della Notte Rosa è che è un evento per tutti, per i giovanissimi, per quelli meno giovani, per chi ama il liscio, per chi ama la musica contemporanea, insomma, un evento per tutti che spalancherà le sue porte da Comacchio fino ad arrivare a Cattolica. Il cast è importante e, devo dire, in quello ho avuto la collaborazione dei direttori artistici nella figura dei sindaci. I sindaci hanno scelto, sentendo naturalmente i propri cittadini, sentendo magari gli artisti che visitano il territorio e hanno creato un bel palinsesto. Sono realmente contento. Io sono arrivato in corsa perché praticamente sono entrato a far parte di Visite Romagna da marzo, però già le cose erano preparate, però insieme abbiamo cercato di renderle migliori e ce l'abbiamo fatta. Questa credo sia la forza, insomma, il gioco di squadra, il fatto di crederci e poi il lavoro di comunicazione e il lavoro che stanno facendo anche i media che ogni anno danno grande risalto a questo evento che ormai è passato dal punto di vista comunicativo. Noi dobbiamo essere bravi a tenerlo su, a dargli contenuto e dargli valore. Siamo al diciottesimo anno e diamo avanti.